ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerai foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il farmaco veterinario virbactan a cosa serve virbactan ha un medicinale veterinario a base del principio attivo cefquinum e solfato appartenente alla categoria degli antibiotici e nello specifico cefalosporine di quarta generazione è commercializzato in italia dall'azienda virbac srl virbactan può essere prescritto con ricetta rn rvd ricetta non ripetibile veterinaria di lgs 218 2023 informazioni commerciali sulla prescrizione titolare virbac concessionario virbac srl ricetta rn rvd ricetta non ripetibile veterinaria di lgs 218 2023 principio attivo cefquinum e solfato gruppo terapeutico antibiotici forma farmaceutica fiala iniettabile confezioni virbactan 150 mg scatola da 24 siringhe principio attivo ogni siringa pre riempita da 3 g di contiene cefquinume come solfato 150,0 mg indicazioni per il trattamento delle mastiti subcliniche al momento della messa in asciutta e la prevenzione di nuove infezioni batteriche della mammella durante il periodo di asciutta nella vacca da latte causate dai seguenti microrganismi suscettibili al cefquinume streptococcus uberis streptococcus disgalactiae streptococcus agalactiae staphylococcus aureus staphylococchi coagulasi negativi posologia singola somministrazione intramammaria il contenuto di una siringa pari a 150 mg di cefquinume deve essere infuso delicatamente nel capezzolo di ogni quarto subito dopo l'ultima mungitura prima della somministrazione la mammella va svuotata completamente il capezzolo ed il suo orifizio devono essere ben puliti e disinfettati con la salvietta detergente fornita bisogna fare attenzione affinca copyright vengano evitate contaminazioni del beccuccio dell'infusore inserire il beccuccio delicatamente in ogni quarto per circa 5 mm o per la sua lunghezza totale e infondere il contenuto di una siringa in ogni quarto diffondere il prodotto massaggiando con delicatezza il capezzolo e la mammella la siringa deve essere utilizzata una sola volta avvertenze l'uso del prodotto si deve basare sul test di sensibilità dei batteri isolati dagli animali se non è possibile la terapia deve essere basata sulle informazioni epidemiologiche locali sulla sensibilità dei batteri bersaglio regionali aziendali non usare la salvietta detergente su capezzoli lesionati in caso di uso erroneo durante la lattazione il latte non può essere destinato all'alimentazione umana per 35 giorni conseguentemente una grave mastite acuta potenzialmente fatale sostenuta da altre specie patogene soprattutto pseudomonas aeruginosa può manifestarsi dopo il periodo d'asciutta buone pratiche igieniche devono essere accuratamente rispettate al fine di ridurre tale rischio le bovine dovrebbero essere alloggiate in un paddo chigenico lontano dalla sala di mungitura e periodicamente testate diversi giorni dopo la messa in asciutta tempi di sospensione carne e visceri due giorni latte periodo di asciutta superiore a 5 settimane 24 ore dopo il parto periodo di asciutta inferiore o uguale a 5 settimane 36 giorni dopo il trattamento fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato